Indaco. In questa anteprima, diciamo così, del nostro telegiornale continuiamo ad affrontare la campagna elettorale. Soprattutto concentriamoci sui programmi dei candidati sindaco in Lizza. Adesso sentiamo quello di Franco Bandelli che, come sapete, scende in campo quale candidato sindaco per Futura. Franco Bandelli, candidato a sindaco a Trieste per la Lista Futura. Partiamo da un argomento che è stato toccato a più riprese nel corso di questa campagna elettorale. La questione è piscina terapeutica. Crollata, non c'è ancora una sostituzione da questo punto di vista per chi fruiva di quel servizio. Qual è la vostra proposta? Ide chiarissime. La piscina terapeutica va ricostruita nel sito in cui è nata, non obbligatoriamente sulla stessa area di sedime, quindi magari sfruttando, e noi siamo perfettamente d'accordo, l'area di quello che un giorno forse diventerà l'ex ortofrutticolo, mi auguro prima possibile, e che trovi collocazione anche a questa importante struttura. Se ho ben capito, alla manifattura tabacchi va bene, purché lo spostiamo definitivamente. Ovviamente il centro deve essere talasso terapico, deve essere un centro di riabilitazione, non deve essere una piscina terapeutica ludica, deve essere dedicata a chi ha problemi di salute e trova beneficio nel stare in una simile struttura. Ovviamente con dei prezzi calmierati e con gli accessi aperti e disponibili a chi ne ha bisogno. Progetto per il futuro di Trieste numero uno, sulla bocca di tutti, il Porto Vecchio. Dal vostro punto di vista però, cosa bisogna insediare in quell'area e con che idea complessiva? La cosa fondamentale è non operare come si è fatto fino ad oggi, secondo me, con il modello spezzatino. Quindi ricercando imprenditori seri, con capacità economiche molto ma molto grosse, perché l'investimento è molto alto. Sfruttare bene i soldi del Recovery Fund, per esempio. La possibilità di insediare chiaramente ambienti legati alla nautica è primaria come necessità, quindi sì al mondo croceristico, sì ai mega yacht, sì alle marine di lusso, sì anche agli alberghi a 5 stelle, che sono le uniche strutture ricettive che in questa nostra provincia o ex provincia mancano veramente come prodotto. Bisogna avere il coraggio di osare per attrarre, l'ho definito in uno slogan di futura e questo noi pensiamo sia utile. Non siamo d'accordo nel sistemare là dentro ovviamente residenze e quindi residenziale deve restare solamente residuale dal punto di vista delle costruzioni. Non siamo d'accordo di insediare uffici pubblici, quindi per me è un errore mettere gli uffici della regione là dentro. Siamo d'accordo che certe imprese legate al mondo della produzione possono tranquillamente trovare sistemazione all'interno di quell'area. A proposito di turismo e balneabilità, ovvero da una parte tutto il mondo che sta attorno al mare ma anche a quello che è lo spazio per i triestini per andare a fare il bagno, come si dice a Trieste. Futura è partita molto presto con la campagna elettorale, più volte con proposte concrete sul territorio, dai topolini di Barcola sino ad altri stabilimenti balneari storici. La proposta di Franco Bandelli però è legata a un progetto che guarda a proposte del passato per riportarci a un futuro diverso, il raddoppio della linea di costa di Barcola come previsto dal piano regolatore. Mi fa piacere che la stampa, in questo caso lei, abbia colto il fatto su cui noi abbiamo basato la nostra campagna elettorale, la progettualità. Non siamo contro nessuno, siamo a favore del progetto Trieste Futura e quindi per noi il raddoppio della linea di costa in termini di abbalneazione potrebbe portare un grande beneficio a tutta la nostra comunità. Mi spiego velocemente, esiste un piano regolatore, basta ancora un passaggio per attuarlo definitivamente e tutta l'area che va dalla fine della pinetta di Barcola fino al bivio potrebbe essere terrazzata con dei mogli a T fino a 60 metri della linea di costa attuale. Pensate quale situazione dal punto di vista anche e soprattutto turistico andremo a creare invece di pensare a futuriste e futuribili spiagge che vedo di difficile attuazione. Questo esiste e quindi amministrativamente bisogna solo applicarlo. Dall'altra parte, mi permette ancora, un nostro cavallo di battaglia è stato il rilancio della zona dell'Ausonia. L'Ausonia è lasciata così, grida vendetta al cielo. Insomma, io mi auguro che l'ordine del giorno che è stato fatto proprio dalla giunta regionale abbia un seguito, è stato fatto dal consigliere di Futura in regione, Emanuele Zanon. Pensate, un friulano che viene a salvare l'Ausonia, però insomma va benissimo in questo caso, secondo me. A tal proposito mi auguro che il prossimo anno qualcuno tagli il nastro di una rinata a Ausonia che è uno stabilimento a fiore e l'occhiello della nostra comunità. Rilancio del commercio e aiuto al commercio in crisi dopo il lockdown, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto. Da una parte proponete un taglio delle tassazioni, dall'altra una visione diversa sulle periferie con, diciamo così, lo stop a nuovi centri di grande distribuzione. Sì, certamente. Idee molto chiare anche in questo caso da parte del Movimento Futura. Allora, blocchiamo per tutto il 2022 due tassazioni, lattari da una parte e l'occupazione sul pubblico dall'altra, per dare ossigeno alle categorie più colpite dalla pandemia. Parlo degli amici ristoratori, dei baristi e del ricettivo alberghiero. Questo come primo passaggio. Secondo passaggio, il rilancio del commercio di prossimità, così come viene definito, passa attraverso il riportare nei nostri rioni, nella nostra amata periferia, quel centro di aggregazione che diventa di fatto il piccolo commercio e non un insignificante grande distribuzione, dove anche la socialità si distacca. E quindi su questo il Comune può operare, può operare favorendo nuovi insediamenti e noi saremo pronti a seguire questa linea. Il Cavallolo di Battaglia di Futura come tema ad ampio raggio, il tema lavori pubblici, dalle opere che rimangono incompiute, tram di opicina ai cantieri esistenti, a, da quello che ho capito, anche un progetto di riordino all'interno della macchina comunale per far funzionare meglio questo settore, a partire dalle scelte di Palazzo Cheba. Si vede da sportivo, dico che di solito una società deve creare dal settore giovanile, no? Per poter poi sperare di vincere un campionato, indifferente che sport adesso stiamo parlando. Bene, il Comune ha fatto esattamente il contrario, questa amministrazione, ecco, questo è un punto che faccio in maniera chiara e forte, l'amministrazione di piazza, TER, chiamiamola così. Non c'è stato un ricambio generazionale, bisogna avere il coraggio di assumere gente da dove serve, un riordino degli uffici, soprattutto dei lavori pubblici e dell'urbanistica, serve urgentemente, perché chiunque arriverà dopo questa amministrazione si troverà in un impasse terrificante, perché tutti i vecchi dirigenti sono andati in pensione in questo periodo, bisognava pensarci prima. No Green Pass proteste praticamente in ogni ambito in questo momento, a livello triestino, Friuli, Venezia e Giulia, in tutta Italia. Futura che posizione ha? Futura la posizione è prima di tutto che le piazze vanno ascoltate e non vanno sottovalutate, che contro il Green Pass noi ci siamo schierati da sempre, almeno questo Green Pass con questa applicazione, soprattutto nei confronti dei lavoratori da una parte e degli studenti dall'altra. È un vero e proprio ricatto nel vero senso della parola. Se lo Stato voleva fare il vaccino obbligatorio, ben venga, abbia il coraggio delle proprie scelte e lo faccia. Così demandare ad altri responsabilità e poi di vita, perché la verità è che uno è una famiglia qualsiasi, con due adulti, va a spendere 360 euro al mese per poter fare i tamponi per lavorare, ma vi sembra giusto? E parimenti penso a tutti gli studenti universitari che mi hanno anche in questo periodo avvicinato, che non possono più entrare nemmeno in biblioteca se non hanno i tamponi. Allora la proposta di Futura nasce dal fatto che appena arriveremo in Comune metteremo una posta a bilancio per comprare i tamponi a questo punto, sperando che poi lo Stato centrale faccia marcia indietro. Offriamoli, o perlomeno diamogli un prezzo realmente calmerato, come succede in tutti gli altri paesi d'Europa. Francia adesso siamo a 0,20 centesimi, ma togliamo il Green Pass come esiste, non esiste in Inghilterra, non esiste in Germania, non esiste in Francia, questo è il vero vulnus in questo momento. Allora i disordini sociali sono dietro l'angolo quando il popolo protesta in questo modo ed è giusto ascoltarlo. Ecco noi restiamo liberali di spirito e di concetto, quindi no al Green Pass assolutamente e soprattutto sì alla libera scelta, credo che sia un modo democratico di operare in un paese che è sempre stato e ha sempre sventolato la propria Costituzione, che in questo momento viene invece un po' calpestata. Adesso Giorgio Marchesic, candidato sindaco per la federazione del TLT. Giorgio Marchesic per la federazione del territorio libero di Trieste, candidato a sindaco. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa tornata elettorale, di questa campagna elettorale. Quali sono le sensazioni, quali sono gli obiettivi, le urgenze per la città di Trieste? Beh, gli obiettivi sono molto chiari e limpidi. Noi rivendichiamo come federazione del territorio libero di Trieste le applicazioni integrali del Trattato di Pace. Oggi spesso e volentieri si sente parlare di allegato ottavo e questo allegato ottavo è stato inserito in diversi programmi elettorali di altri partiti. Evidentemente vuol dire che noi indipendentisti non abbiamo tutti i torti. Vi assumendo che cosa vuol dire applicazione integrale del Trattato di Pace. Noi vogliamo la zona franca integrale, noi vogliamo il porto franco internazionale, noi vogliamo le pensioni detassate, noi vogliamo che le eccise vengano praticamente tolte dalla benzina. Questo è quello che la federazione come primo punto ha inserito nel suo programma elettorale politico-amministrativo. Quindi vogliamo Trieste detassate e defiscalizzata, vogliamo una Monte Carlo dell'Adriatico, una Livinio, come dicevo prima, detassate e defiscalizzata. Cosa questo può comportare ulteriormente come beneficio per il cittadino, riuscire a portare avanti questa battaglia e magari vincerla? Lei deve pensare di una cosa sola, noi parliamo di cose che sono legge, noi non facciamo di programmi mirabolanti, non facciamo di programmi stratosferici, noi rivendichiamo dei nostri diritti, delle nostre leggi, quindi diciamo chiaramente che un sindaco se volesse, parlando con il commissario di governo, potrebbe immediatamente applicare le leggi vigenti e quindi i cittadini del territorio Libro di Trieste o comunque i cittadini di Trieste non dovrebbero più pagare le tasse allo Stato amministratore italiano, quindi lei mi insegna che a Trieste ci sono ben il 35% di pensionati e dietro ogni pensionato non c'è una famiglia, ma più famiglie, quindi potremo da subito praticamente risolvere gran parte del problema economico di molte famiglie, anche in considerazione che oggigiorno si sta parlando di aumentare le bollette elettriche del ben 40% rispetto ad oggi, quindi noi non vogliamo più pagare le tasse allo Stato italiano non dovute. Ecco, si sta ragionando molto sul Green Pass perché dal 15 di ottobre sarà praticamente obbligatorio per così tutti i lavoratori, voi avete una posizione molto chiara anche su questo, qual è? Più che chiara, noi l'abbiamo chiarissima, noi innanzitutto non siamo negazionisti della pandemia e non siamo no vax, noi siamo free vax, che cosa vuol dire essere free vax, se uno vuole si vaccina, altrimenti non fa il vaccino, però riteniamo che il Green Pass sia praticamente una dittatura politico-sanitaria che l'Italia ha inserito a Trieste, che tra parentesi l'Italia a Trieste ha ministra, quindi noi se avessimo un sindaco e una classe politica intelligente dovrebbero tutti quanti praticamente non abolire ma rifiutare questo Green Pass, infatti noi tutte le manifestazioni contro il Green Pass aderiremo a Confederazione dell'Italia e non solo, pretendiamo, visto e considerato che il sindaco è la maggiore autorità sanitaria locale, pretendiamo tamponi salivari gratuiti per tutti quanti, perché non è ammissibile che uno per andare a lavorare deve spendere ogni 48 ore 15 euro di tampone e sono quei tamponi invasivi, sono quei tamponi per il naso, quindi noi vogliamo tamponi, cioè non tamponi, tamponi salivari gratuiti, sia ben chiaro. Ecco, quindi anche parlando del tema lavoro, in che momento sta vivendo Trieste dal punto di vista occupazionale in questo momento? Che cosa serve alla città? Praticamente Trieste, come tante altre città, io parlo ovviamente di Trieste perché mi sono candidato sindaco qui a Trieste, sta vivendo un bruttissimo momento. Come dicevo prima, il governo centralista italiano vuole aumentare del ben 40% le bollette dell'energia elettrica, quindi noi siamo contrari, come dicevo prima, e vogliamo che vengano applicate le leggi che prevede appunto Trieste, detta stata fiscalizzata, non pagare più nessuna tassa allo Stato centralista romano. Il tema centrale tra l'altro per non solo Trieste ma tutta la Venezia Giulia è l'immigrazione, cosa si può fare, cosa si deve fare da questo punto di vista, quali sono anche le vostre proposte, come agire? Il sindaco, come dicevo prima, oltre ad essere la massima responsabilità sanitaria locale e anche responsabile della sicurezza. Io non ho mai visto le forze dell'ordine bloccare i clandestini che vengono giù dai boschi della Slovenia e meno male che la Slovenia aveva detto no a qualsiasi corridoio praticamente umanitario. Io li vedo ogni mattina che si andano giù tranquillamente e nessuno li farma, nessuno li blocca. Allora noi diciamo che se è un sindaco politicamente impegnato e politicamente concreto nei suoi programmi politici dovrebbe mandare subito o l'esercito o i carabinieri o se no la polizia locale a bloccare questi clandestini e rimandarli al mitente in Slovenia. Perché non è possibile che tutti quanti arrivino qui a Trieste e non si sa questi signori che cosa vogliono fare, anzi si sa cosa vogliono fare, vogliono vivere sulle nostre spalle vita naturale durante. Questi signori portano la delinquenza ogni giorno come si è visto ultimamente in via Carducci che si sono sparati tra di loro. Ovviamente non è la stessa cosa come i clandestini che arrivano adesso dagli Afghanistan o cose del genere, però noi di queste persone abbiamo paura e io ho già fatto diversi appelli e inviti al Commissione di Governo di stracciare a queste persone il permesso di soggiorno e dargli il foglio di via e rispedirle a casa loro. Trieste ha bisogno di lavoro, di pace e di serenità. Qui arriviamo al punto sulla sicurezza in città, effettivamente un escalation di violenza, la cronaca di queste settimane ce l'ha mostrato molto bene. C'è un problema di sicurezza a Trieste e se c'è in che modo si può agire? Ma certo, ma qui è sempre il solito discorso che tutti quanti praticamente rimbalzano il problema da una parte all'altra invece di assumersi le proprie responsabilità. Ripeto, il sindaco è responsabile anche della sicurezza cittadina. Ci sono i vigi urbani, sì o no? Li hanno armati, non li hanno armati, li hanno dato il tesler, come si chiama e quant'altro. Perché non intervengono i vigi urbani? Altrimenti se questi signori, i vigi urbani non vogliono intervenire e che cambino il mestiere. Questo dunque è quello che ci ha dichiarato Giorgio Marchesic, lo stesso Giorgio Marchesic tra l'altro sarà ospite questa sera a partire dalle 21 di Ferdinando Avarino a Ring. Marchesic ricordiamo candidato sindaco della federazione TLT, ci saranno poi Aurora Marconi candidato sindaco della lista Trieste, Ugo Rossi candidato sindaco del Movimento 3V e Tiziana Cimolino candidato sindaco dei Verdi. Per il momento è tutto, rimanete con noi perché dopo la pubblicità parte il telegiornale delle 13.20. Spettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre parlando di economia. Un nuovo centro di produzione, una digital boutique, un laboratorio di innovazione centro per la trasformazione digitale e per il marketing digitale per un investimento totale fino a 500 milioni di euro nei prossimi 5 anni con 600 posti di lavoro diretti e 2.100 posti di lavoro indiretti. Di ciò si comporrà il nuovo centro di innovazione e sostenibilità a Better Tomorrow Innovation Hub della British American Tobacco presentato questa mattina a Trieste, andato in onda fra l'altro su Tele4. Vediamo allora il servizio riassuntivo. La British American Tobacco sbarca a Trieste dove investirà 500 milioni di euro nei prossimi 5 anni in uno stabilimento di produzione nel settore dei prodotti a basso rischio per la salute, sostanzialmente sigarette elettroniche di ultima generazione, generando 600 posti di lavoro diretti e 2.100 indiretti in termini di indotto fra livello locale e quello nazionale. Stamani all'auditorium del Molo IV in diretta su Tele4, il chief marketing officer Kingsley Wheaton ha aperto l'incontro con il suo intervento in collegamento da Londra. Abbiamo scelto l'Italia e in particolare Trieste come l'occasione appropriata per stabilire un centro di eccellenza globale per sviluppare, manufatturare e esportare un range di prodotti potenzialmente riduzionati rischi, insieme con i prodotti di nicotina di terapia di ricerca, non solo all'Europa ma globalmente. Dunque i dettagli del nuovo sito produttivo che sorgerà nel comprensorio di Frieste a Bagnoli della Rosandra, nell'area adiacente alla Varsila che gode dei privilegi conseguenti allo spostamento in loco del punto Franco ed è gestita dall'interporto di Trieste. Parliamo di un progetto che porterà alla costruzione di un innovation hub di 20.000 metri quadrati, porterà alla presenza di in partenza 12 linee di produzione. Migliore per la salute significa avere una politica attiva che porti sempre più fumatori tradizionali a spostarsi verso prodotti a rischio ridotto. Questi sono esattamente i prodotti che verranno sviluppati e prodotti a Trieste. Molte le ragioni della scelta del capoluogo Giuliano per l'investimento, stando alle parole di Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia, ma in testa a tutto c'è il ruolo di Trieste come città della scienza e della ricerca. E l'aspetto che voi triestini conoscete bene è che Trieste è la città della scienza, è la città della conoscenza, è il centro dove c'è la più grande concentrazione di ricercatori in tutta Europa ed è su questo che noi fonderemo non solo il presente ma lo sviluppo futuro e quindi partiranno attività di collaborazione con le varie realtà locali, sia da un punto di ricerca, sia da un punto di vista di accademia, sia da un punto di vista di start-up. Quanto ai tempi, BAT, Interporto e Autority sono già al lavoro per partire concretamente nel 2022. Abbiamo appena firmato il contratto quindi si parterà ovviamente con tutto quello che riguarda le costruzioni, abbiamo un'ambizione molto diciamo ambiziosa ma sicuramente raggiungibile giusto? Ok? Che è quello di avere il primo modulo di costruzione finalizzato per maggio. Per maggio del prossimo anno e quindi speriamo nella seconda parte dell'anno di partire con le produzioni, anzi vogliamo partire con le produzioni nella seconda parte dell'anno. Il tema dell'obbligo del Green Pass per i lavoratori e gli universitari, la piscina terapeutica, l'ampliamento del lungomare di Barcola sono i temi affrontati dal candidato sindaco di Futura, Franco Bandelli. Futura della posizione è prima di tutto che le piazze vanno ascoltate e non vanno sottovalutate, che contro il Green Pass noi ci siamo schierati da sempre, almeno questo Green Pass con questa applicazione soprattutto nei confronti dei lavoratori da una parte e degli studenti dall'altra. L'obbligo di Green Pass anche per i lavoratori e gli studenti universitari non va giù al candidato sindaco di Futura, Franco Bandelli, che su questo tema ha un'idea precisa per Trieste da realizzare a livello comunale. Allora la proposta di Futura nasce dal fatto che appena arriveremo in comune metteremo una posta a bilancio per comprare tamponi a questo punto, sperando che poi lo Stato centrale faccia marci indietro, offriamoli o perlomeno diamogli un prezzo realmente calmerato come succede in tutti gli altri paesi d'Europa. Bandelli, già assessore comunale ai lavori pubblici, ritiene prioritaria nel suo programma la realizzazione di varie opere, tra quelle più urgenti una piscina terapeutica nella stessa area, se non proprio nello stesso punto, in cui si trova quella crollata due anni fa. Va ricostruita nel sito in cui è nata, non obbligatoriamente sulla stessa area di sedime, quindi magari sfruttando, e noi siamo perfettamente d'accordo, l'area di quello che un giorno forse diventerà l'ex ortofrutticolo, mi auguro prima possibile, deve essere dedicata a chi ha problemi di salute e trova beneficio nel stare in una simile struttura, ovviamente con dei prezzi calmierati e con gli accessi aperti e disponibili a chi ne ha bisogno. Tra i cavalli di battaglia del Movimento Futura per Trieste c'è anche la sistemazione del lungomare e l'aumento dell'offerta per la balneazione, ad esempio recuperando lo stabilimento a Osonia o intervenendo a Barcola. Esiste un piano regolatore, basta ancora un passaggio per attuarlo definitivamente e tutta l'area che va dalla fine della pinetta di Barcola fino al Bivio potrebbe essere terrazzata con dei mogli a T fino a 60 metri della linea di costa attuale. Pensate quale situazione dal punto di vista anche e soprattutto turistico andremo a creare. Questa sera alle 21 torna l'appuntamento con Ring. Gli ospiti sono i candidati sindaco Tiziana Cimolino per i Verdi, Ugo Rossi per il Movimento 3B, Aurora Marconi per la lista Trieste e Giorgio Marchesic candidato sindaco per la federazione del TLT. Voi sapete che il cavallo di battaglia appunto di Giorgio Marchesic è quello dell'applicazione integrale del Trattato di Pace. Così ce lo ha ripetuto nel corso di questa intervista. Noi rivendichiamo come federazione del territorio libero di Trieste l'applicazione integrale del Trattato di Pace. Oggi spesso e volentieri si sente parlare di allegato ottavo e questo allegato ottavo è stato inserito in diversi programmi elettorali di altri partiti. Evidentemente vuol dire che noi indipendentisti non abbiamo tutti i torti. La federazione del territorio libero di Trieste rivendica la paternità della battaglia che anche altri partiti stanno cavalcando in questa campagna elettorale per le comunali. Il candidato sindaco Giorgio Marchesic precisa i punti principali del suo programma per lo sviluppo economico e non solo della città. Noi vogliamo la zona franco integrale, noi vogliamo il porto franco internazionale, noi vogliamo le pensioni detassate, noi vogliamo che le eccise vengano praticamente tolte dalla benzina. Vogliamo una Monte Carlo dell'Adriatico, una Livinio, come dicevo prima, detassate e defiscalizzate. Ma alla lotta ormai storica della federazione TLT Marchesic aggiunge elementi di novità derivati dalla situazione di crisi che stiamo vivendo. Ecco che la defiscalizzazione andrebbe a contrastare anche gli aumenti annunciati su tante voci di spesa che ogni mese devono affrontare le famiglie triestine. Il governo centralista italiano vuole aumentare del ben 40% le bollette dell'energia elettrica, quindi noi siamo contrari, come dicevo prima, e vogliamo che vengano applicate le leggi che prevede appunto trieste detassate fiscalizzate, non pagare più nessuna tassa allo stato centralista romano. Infine è un impegno di maggiore intervento da parte del sindaco del comune per il contrasto all'immigrazione irregolare. Se un sindaco è politicamente impegnato e politicamente concreto nei suoi programmi politici dovrebbe mandare subito o l'esercito o i carabinieri o se no la polizia locale a bloccare questi clandestini e rimandarli al mitente in Slovenia. Adesso a Muggia la campagna elettorale sta per concludersi, sentiamo quello che Roberta Tarlao, chiedo scusa candidata al sindaco, propone per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere in tempi brevi. Vediamo. Sono molto soddisfatta del percorso che abbiamo fatto perché il nostro programma contiene non dei sogni ma dei punti realizzabili dal giorno dopo che saremo eletti. Soddisfazione da parte di Roberta Tarlao per come sta proseguendo la campagna elettorale per le elezioni a Muggia. La candidata al sindaco ha le idee chiare sui percorsi da intraprendere e le urgenze per migliorare alcuni servizi nella cittadina rivierasca. Uno dei punti cardine, sottolinea Tarlao, è rivedere il sistema di raccolta differenziata. Ricordo con molto piacere due incontri online che abbiamo fatto proprio sui rifiuti grazie all'intervento anche del presidente dell'ASA di Tivoli, quindi abbiamo visto degli esempi concreti, delle buone pratiche che non facciamo altro che copiare sul nostro territorio e soprattutto certi anche degli ottimi risultati perché non dimentichiamo che questa differenziata a Muggia che è stata presentata senza tenere troppo conto dell'esigenza dei cittadini va assolutamente migliorata perché noi crediamo che sia proprio un dovere etico fare la differenziata però non può esserci un problema di decoro soprattutto nel centro storico di Muggia quindi dobbiamo affinare questo metodo di raccolta ma soprattutto abbiamo visto che ci sono anche dei progetti che si possono fare ad esempio mi viene in mente la compostiera di comunità quindi andare a far sì che il rifiuto diventi una risorsa. Anche la lotta allo spreco alimentare strettamente connesso al tema dei rifiuti è un obiettivo che vuole portare avanti Roberta Tarlao. La stessa cosa ovviamente per lo spreco alimentare se vogliamo ridurre i rifiuti dobbiamo ridurre anche lo spreco e anche qui grazie a degli ottimi esempi già in vigore in tanti comuni a livello nazionale noi ci occuperemo di sprecare di meno ma soprattutto di aiutare anche le persone in difficoltà che sappiamo che a causa della crisi e ancora peggio con questa pandemia ha fatto sì che molte famiglie non abbiano cosa mettere in piatto. Poi dall'altra parte sapere che con lo spreco riusciremo a sfamare cinque volte tutte queste famiglie sono cose che devono farci riflettere quindi ci auguriamo di poter mettere in pratica tutto ciò al più presto. Ieri sera ospite del Caffè dello Sport Fabio Mian guardia titolare dell'Allianz Rieste che ha commentato la vittoria all'esordio proprio in campionato contro i Brindisi ma anche le qualità dei nuovi arrivi con Ate e Banks. Fabio si è iniziata da grande, overtime, un po' thrilling però due punti importantissimi. Sì diciamo che l'importante è partire col piede giusto, ce l'abbiamo fatta con qualche difficoltà e mi ha acculto magari sulla rimessa finale. Ti do una bella notizia Fabio, negli Allianz della Lega la rimessa non c'è. Quindi siamo pochi, non ho potuto montarla. Nessuno sa niente, chi ha visto ha visto. Si nega anche l'evidenza. Con Ate che diciamo lo conosciamo da poco ma è evidentemente un giocatore importante ma anche un fattore. La sua fisicità è sotto gli occhi di tutti nel senso sicuramente magari avrà tutto il tempo per migliorare nelle letture difensive, offensive e una volta che arriverà a quel livello potrà ambire a palcoscenici importanti. Cosa ti ha chiesto il coach in particolare per questa stagione? Ci siamo capiti subito nel senso che diciamo uomo squadra nel senso di poter fare più cose anche quando magari il tiro non entra o di essere utile a 360 gradi. La squadra è stata costruita attorno a un grande realizzatore come Adrian e poi ha molte altre qualità perché poi molte persone si soffermano sui punti fatti però sa passare la palla, sa giocare di squadra. Se mettiamo nelle condizioni Banks di agire da leader offensivo e lui di conseguenza agisce con l'intelligenza cestistica dell'ultima partita siamo a posto perché attira la difesa e dopo da scarica palloni per giocatori partiti piedi per terra. Quindi se lui mantiene questo livello di intelligenza cestistica siamo veramente in una botta di farla. Al di là dei 30 punti che fosse segnare o dei 10 punti. Allora adesso il meteo per chiudere questa edizione. Vediamo la situazione generale. Sulle Alpi domani passerà un fronte atlantico. Giovedì mattina la depressione sull'Europa centrale favorirà ancora in quota l'afflusso di correnti umide occidentali mentre nei bassi strati arriveranno correnti da est-nord-est più fresche. Per domani dunque si prevede cielo da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa e in prevalenza nuvoloso sulla zona montana dove saranno probabili piogge sparse in genere moderate e qualche temporale specie dal pomeriggio. Verso sera possibili locali piogge anche temporalesche in pianura e nella notte sulla costa. È tutto, vi ricordo l'appuntamento delle 17.30 con Trieste in diretta a 19.30 telegiornale 21 Ring. Buon pomeriggio e più tardi.